Ciao a tutti ragazzi da TFG, ma prima di iniziare il video voglio dirvi una cosa importantissima Su Cheekybox è uscito... Sto facendo una serie di video? Su Cheekybox? Scusa, sì, sono... Cento draghi ragazzi! Ma se l'hai già detto su Cheekybox, perché devo ripeterlo? No, ragazzi, abbiamo fatto un video con cento draghi livello 5, non vi dico cosa succede, andate a vedere il link in descrizione Ma adesso... Siamo tornando al nostro... Ho vinto un baule super magico, cazzo! Ecco, quindi mi sa che fra un po' io prenderò un baule gigante super magico, giusto? E bento io ho visto che ci sarà un nuovo aggiornamento e che proprio mettono un altro baule ancora più potentissimo E io lo prenderò prima che arrivino a giornalista Esatto, è probabile Quindi ragazzi, apriamo subito prima la cesta free, perché intanto qui trovo l'epica Io vedo, guarda, è l'epica, no, niente E apriamo quello della corona Corona, corona Apriamo quello della corona che mi dà ben 400 d'oro, ben 4 gemme Che strano, che non ti ha dato più gemme Strano, che è strano, il mio baule è strano 28 tesla e un razzo, no, 6 razzi 6 razzi Boom, io vado solito col baule super magico Ebbè, è solo quello Io spero di trovare una leggendaria Pronti ragazzi, il momento è catartico Secondo me non ce la fai Allora, 3.000 d'oro, bene, così posso potenzializzare 2.968 Abbiamo gli spiriti nel fuoco, che non me ne faccio un cazzo Regalali? Li regalo, via Non li vogliono anche questi Sì, datemi una leggendaria ora No Qua 40 missili Sì, ma non lo usi, vero? Non lo uso, ma è leggendaria! No, no, non lo uso Carta epica! No, leggendaria, perché è bello Non è che è una epica, è incredibile Ma la devi prenderla, è vero, perché dobbiamo prenderla un attimo di sopra Girati in atto, girati Aspetta, faccio così Adesso, scaccia e non guarda Vai! Sì, il principale, io lo posso potenziarlo Cazzo, adesso andiamo a seconda Leggendario! Oh, barili! Barili! Barili a manette! Barili! Aspetta, cosa potenzia adesso? Aspetta, il principe nero Oppure il barile? Dov'è il barile? Il barile, 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 barile Dov'è? Dov'è? Eccolo qua 2000 Ma lo usi? Eh, non no Ti conviene potenziare le robe che hai sopra? Eh, effettivamente sì, perché uso di più queste Eh Allora, ragazzi 4000 alla scarica Ma spera, quanto ti costa potenziare le robe? Eh, 4000 Allora, facciamo così Potenzia la scarica 4000 Così, paf Perfetto Ok Così in teoria livello 9 Spacca devasto In più adesso ho 3000 E con quei 3000 potrei potenziarmi il principe nero Visto che a livello 1 è un po' orribile Oppure il barile? Il barile quanto mi costa? 2000? E dipende quanto cosa usi? Eh, nessuno dei due Però se devo usare preferisco il barile Ok, allora potenzia Barile! Barile! Livello 3 Info Vediamo info Fa Si sa la banne Livello 8 arrivano i goblink stavolta Aspetta Danno a dare a 60? Si Che merda Non è Danno a dare a 60? Si Che merda Guarda 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 Rindigan Guarda cosa faccio Usa il barile al posto del bombarolo Sicuro? Ma si Sei sicuro? Ma si Tanto ho la scarica a livello 9 Tanto perdi Dai proviamo ragazzi La tecnica vediamo se funge Faccio così Metto Il gigante royale E allora butti il barile Esatto Appena Appena lui mette le truppe Eccolo qui Allora tu butti il barile Ok Barile giamano Sono occupato a colpire te Bravo Esatto Ah no Ho messo le frecce Bastardo Accoltellate Niente Non va Oh il gigante di ghiaccio Il mago di ghiaccio Buon Natale Vediamo quanto danno fa Cosa è successo? Non so Non hai votato la Muori Si cazzo Adesso non è mica partita La palla di fuoco Come no? No ce l'ha ancora l'incaricamento Ma infatti non l'ho messa La palla di fuoco Che hai visto? Ho messo la scarica Ho messo gli sgherri Ragazzi Ho visto un micro lag Scusami Un micro lag Che ha visto L'urinegan Vedo le palle di fuoco Io vedo solo lag Basta Palle di fuoco ovunque Guarda che c'è pronto il barile Guarda 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 Ma adesso lui c'ha le frecce Ma quella mi dà fastidio Boom Non so Facciamo così Stiamo su È peggio quello Eh? Dice che sono peggi barbari E si Guarda Scarica Zone E questa scarica Livello 9 Ragazzi Spacca de basta Muori Adesso ci si con le frecce Si Ma la scarica Costa di meno Costa 2 La scarica Le frecce 3 Boom Boom Rinegan Adesso facciamo così Ah le frecce Così nel barile a caso Ah le frecce Vabbè Che le usi Vediamo se le frecce Vediamo se tenga ragione ZAM Le frecce Le hai tolto 60 Con la caduta Le ho tolto 60 Quindi 60 Le ho tolti Adesso ci siamo questi E questi Ok Hawk Rider Cerca di non andare Nell'estrattore Nell'estrattore Ah niente L'intelligenza dell'Hawk Rider È come sempre È epica Sì Come si dice Quando qualcosa è È conosciuto Famoso È riconosciuto È riconosciuto No è riconosciuto Ma è C'è un termine È proprio un termine termine Capito È morto Perfetto Sgherry No Sgherry Spirit Goblin Parevi essere livello 9 Tu hai 8 Schifoso Ah ha messo un'altra cosa Ok adesso così Buttiamo C'è una carta Che mi rende immune I Goblin dalle frecce No No Allora mettiamo il barile Il gigante barile Il gigante barile Con i barbari A uccidere Ok là ci sono altri barbari Il gigante barile Oh che culo Il mio gigante barile Uccide la torre Sì Bene 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 E muori cazzo Ok perfetto Uh attenzione Spirit Goblin E palla di fuoco Potentissima la palla di fuoco Niente Ecco 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 No È giù la torre No non è andata giù Merda Non è andata giù Adesso ti butta Adesso degli spurti Aspetta Facciamo così Zap Perfetto No non quello Non quello Rider Spirit Goblin Qualcosa Uccidi No 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 Te la butto giù così Palla di fuoco No Non ce la faccio Non ce la fai Il barile Il barile cosa No è inutile Non ce la farai mai No Che sfiga Che sfiga ragazzi No 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 Rivincita Assolutamente Rivincita con il barile Assolutamente Allora ragazzi Adesso provo di nuovo Con la tecnica del barile Non funziona più Vediamo se ha Vediamo se ha le frecce Subito così Così le togli delle palle Esatto Vediamo un po' No no Non ce le ha Guarda Intanto gli ho già tolto Un bel po' di vita La torre Perfetto Intanto abbiamo un tipo Livello 9 contro C'è forte Questa qui almeno Tre leggendarie Almeno quattro Legendarie C'è livello 7 E anche lo specchio Livello 7 Perché c'è lo specchio Perché c'è lo specchio Perché ha giocato Tre carte Due di queste Sono due estrattori No perché mi da fastidio Capisci Un po' butta la bomba Metto questo Aspetta Eeeh Muori Pecca Muori Muori Scarica Sti stronzi Jack Jack Perfetto Ragazzi Adesso devo buttare Giù quell'estrattore Si è fastidioso Buso la palla di cuore Oh quanti estrattori Mette Ma è impazzito Sto qui Aspetta Vediamo se riesco a fare Qualche toss Adesso Dai Guarda il mio Strigoblin Che ha coltella L'estrattore Coltella Perfetto Adesso gli butto giù Anche quello Non mi piace Ah ecco perché Perché c'ha il gole Perché c'ha il gole Però adesso solo un estrattore Ma perché uno a livello 4 Uno al 5 Uno al 7 La specchio È così Alla specchio Si ma la specchio Specchia con livelli in più Si Cos'è sta roba Aspetta Buttiamo questo Non ho mai visto sta cosa Ragazzi Primissima volta Che avete una roba del genere Trovi contro Due golem Si E li ha lasciato mettere lo specchio Li ha lasciato mettere lo specchio Boom L'ha facciata la data giù Perfetto Però in seguito Faccio anche la mia Però si è facciata così Esatto Ok 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 Dai gobi Barbary Cioè Dai Barbary Qualcosa a uccidere qualcosa Ecco Ma L'ha buttata giù I golem L'attore Ti rendi conto? Si anche la veleno Si boh Anche la veleno Si pronuncia un bel tre stelle No no Perché Guarda che non ce la fa andare avanti Guarda che non ce la fa andare avanti No si ce la fa Oddio Due golem Spaccano de vasto Esatto Ma quanto ho perso ragazzi Due porti hai perso Oh qualcuno sta andando giù di trofei Ecco Non devi giocare Non devi andare giù di trofei Si bisogna salire Se no il mio tre c'è uno trofei Cosa vuol dire E che devo fare Faccio un'altra partita Cazzo Un'altra partita Non voglio finire il video Perché perdo Allora Adesso adesso come posso perdere Non fare quel gesto No mi sto guardando la fronte Si Allora adesso buttiamo il barile Lì Forse era meglio Ma lo spacca muore Cosa tu la fa Ecco Allora buttiamo questo Questo E adesso aspettiamo la scarica Che lui mette le truppe Vero? Si Vero che metti le truppe Tu bravo Si ma si è troppo in lì Ebo non importa Perché ho paura Che tu lo gelassi tutto Eh o gelassi O zappassi Cosa che farà lui invece No lui non gela Lui non gela Perché il mio domatore Muore adesso Perfetto E adesso muoiono anche quelli Vero? Morite tutti Morite Sì boh ma non ho mai visto due golem messi insieme? Non ho mai visto una roba del genere? Ma come due golem? L'ho visto con i giganti Ok due giganti Due golem? No è riuscito a mettere tre Vabbè ma due golem Vabbè ma due golem rinnega Due golem Spadaboom Due golem Cazzo Sì erano due golem Ma hai visto una roba del genere? Ma io ti volevo dire Guarda che la specchio ti mette due golem Eh no Scusa aveva appena usato Aveva venti specchio quelli Aveva la specchio per la specchio Aveva due specchio Ha tre specchio Ok Ok lo so E tu mi geni Io ti zappo E non serve a niente Perché è morto Cazzo 800 di vita Come faccio? Per te lo ragiona Aspetta Ha già buttato la Le frecce? No Le tiene apposta Le tiene Le tiene apposta Per il mio barile Capito? Però Butta il mio barile sulla torre centrale Ha che senso ha? Scusa Stupiscilo Lo stupisco Aspetta vediamo Aspetta Aspetta faccio la cosa che hanno fatto a te Guarda Così E voi direte Che cosa stai facendo? Vediamo No Cazzo è sta roba Oddio Sono io Posso fare queste No perché se lui Se lui buttava le frecce Eh sbagli Perché quando tu vedi Quando tu vedi il barile Sei convinto Che te lo tiri sulla torre Beh di solito è così No invece lo butti dietro Eh Rischi 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 di sbagliare Perché tu dici cazzo Cazzo in culo Capito Zappo Zappo Ok perfetto Adesso muore E adesso buttiamo questi Barbarie uccidete Barbarie uccidete Cosa? Barile 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 di goblin No frecce No frecce Stato Guarda che c'è l'Ogrider Eh c'è l'Ogrider Lo so E li vogliono tutti E io metto questi Ok bene Ok GG Ah vuoi dimmi che vinci stavolta Forse si rinagha Come ce la fai a vincermi? Oh no no Stai zitto Ah due due cose Tuttele giù una subito Boom Buttiamo giù subito Uno! Sbagliato? Hai sbagliato il zappare Non hai zappato il maggiordomo Non hai zappato il domatore? eh ma no, quando non zappi il maggiordomo è un casino è un casino è un casino è un maggiordomo se non zappi il maggiordomo dopo il maggiordomo l'emblema zappiamo maggiordomi ok zappiamo adesso ho vinto ho vinto era un colpo uno di vita si cazzo e va a vincere la partita con molta con molta con molta sudata con molte sudate con molte sudate con una partita molto sofferta un baule magico che è super magico che non è stato vinto a trovare un altro sono sfigato ciao a tutti ma niente leggendario quella epica mi piace ciao a tutti al prossimo video ciao a tutti